Insium è un nuovo brand di skin care che si posiziona nella nicchia, è un'azienda completamente italiana, noi siamo frulani e il nome della linea che è Insium deriva da una parola latina che significa insonno, dal frulano antico Insium. Nello studio di Insium ho pensato di creare una linea di prodotti che rappresentasse veramente la mia idea di skin care, quindi delle formulazioni assolutamente efficaci con dei principi attivi puri e tecnologicamente avanzatissimi, ma con texture ricche e piacevoli, naturalmente senza utilizzare degli ingredienti che potessero essere dannosi o irritanti per la pelle. Anche i canoni estetici che abbiamo utilizzato sono molto precisi e anche questi sono frutto di uno studio che prevede una sensorialità, un'emotività del prodotto. Il risultato di questo lavoro quindi è una linea anti-age assolutamente performante, ma soprattutto con delle texture che danno un comfort e un piacere immediato. Innanzitutto tutti i prodotti sono privi di sostanze irritanti, come dicevo prima, quindi noi abbiamo delle formulazioni prive di siliconi, di farabeni, di petrolati, di tutte quelle sostanze che sono inutili, inutili, non hanno nessun beneficio per la pelle. La linea di lancio è molto corta, sono quattro sieri e tre creme tutti anti-age e all'interno ci sono degli attivi biotecnologici, il NeuroGard, il Criptroacetil, Criptide 2, che agiscono sui principali meccanismi dell'invecchiamento e sulla prevenzione e sull'attenuazione dei segni delle rughe già esistenti. Quindi un progetto completo, sensoriale, piacevole, direi un momento intenso di bellezza.